Il patriarca non riesce ancora a votare. Ma lei sta provando a votare, non è il patriarca? Bene, la votazione è chiusa. Presenti 423, votanti 422, estenuti 1, maggioranza 212, favorei 120, contrari 302, la Camera respinge. Siamo all'8.500 della Commissione da votare senza dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Il parere è favorevole per il relatore di maggioranza del Governo. Si rimetta all'aula il relatore di minoranza, se non c'è una richiesta, la votazione è aperta. Vico, bene, ha votato. Altri che non riescono a votare? Sì, Bonafede ha votato. Grillo. Grillo. Ok. La votazione è chiusa. Presenti 430, votanti 329, estenuti 101, maggioranza 165, favorei 313, contrari 16, la Camera approva. Siamo a questo punto all'8.324. Fico, c'è il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e quello favorevole del relatore di minoranza. La votazione è aperta. Grazie. Ci siamo? No. Ho chiuto. Buonafede. Buonafede. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 426, votanti 423, estenuti 3, maggioranza 212, favorei 126, contrari 297, la Camera respinge. 8.325. Alberti. C'è il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo, favorevole del relatore di minoranza. Non ci sono richieste di intervento. La votazione è aperta. Vico. D'Agostino. 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 Ancora non riesce. Sì, Busto ha votato. No. Bene. Altri che non riescono a votare. La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 423, estenuti 1, maggioranza 212, favorei 121, contrari 302, la Camera respinge. Ora siamo all'8.326, Busto. Anche in questo caso c'è il parere contrario del relatore di maggioranza del Governo e favorevole del relatore di minoranza. Non vedo richieste di intervento. La votazione è aperta. Mi otto. Mi otto. Mi otto. Mi otto ancora non. Mi otto, sta venendo il tecnico. Minucci. Sta venendo, c'è lì il tecnico. Bene. Altri che non riescono a votare. La votazione è chiusa. Presenti 415, votanti 414, estenuti 1, maggioranza 208, favorei 100, contrari 314, la Camera respinge. 8.4, Sarti. Se non ci sono richieste di intervento, parere contrario del relatore di maggioranza, Governo. Parere favorevole del relatore di minoranza, la votazione è aperta. Vico, buona fede. Ci siamo? Prato Gianni. Prato Gianni. Sibilia. Prato Gianni. Rotta. Sibilia invece ha votato. Prato Gianni, sì. Rotta ha votato. La Brichetti. La votazione è chiuse. Presenti 419, votanti 418, estenuti 1, maggioranza 210, favorei 101, contrari 317, la Camera respinge. Passiamo all'8.327, De Rosa ed altri. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza, non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Carra. Chia... Della Valle. Carra ancora non riesce a votare. Covello. Covello ha votato. Carra ha votato. Carra ha votato. Chi altro non riesce a votare? Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 98, favorevoli, 314, contrari, la Camera respinge. 8.328, Zolezzi ed altri. Parere contrario, Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione. Chi non ha votato? Pellegrino. Pellegrino. Borghi. Borghi.